Ma Fantapie è una figura davvero rilevante perché si confronta con i problemi fondamentali del pensiero del Novecento. Guardate, è vero, quando dico pensiero del Novecento non intendo soltanto il pensiero filosofico, perché non soltanto la filosofia è pensiero. Pensiero è la scienza, è il pensiero scientifico, è il pensiero matematico e si confronta con i temi di fondo della conoscenza del Novecento. Il titolo dell'incontro di oggi è Ordine e disordine nel mondo contemporaneo. Perché quella giunta nel mondo contemporaneo? Perché nel mondo contemporaneo, e quando diciamo il mondo contemporaneo intendiamo soprattutto il Novecento, intendiamo la fisica del Novecento, è cambiata completamente l'immagine del mondo, è cambiata completamente l'idea di ciò che è ordine, di ciò che è disordine. E con questi temi Fantapie si confronta fino in fondo con una radicalità che è estrema, che probabilmente è anche la causa della sua, in qualche modo, del mancato sviluppo, mancata conoscenza poi del suo pensiero. Perché se si esclude il lavoro meritorio che hanno portato avanti Arcidiacono, Giuseppe Arcidiacono, questo suo grande allievo e il fratello, e poi anche altre persone che si sono interessate di Fantapie e a Viterbo sicuramente Antonino Scarelli. È rimasto poco di questa radicalità del suo pensiero, anche perché le tradizioni culturali che hanno dominato il Novecento in Italia, dico quella marxista e quella cattolica, non è che il pensiero di Fantapie completamente collimasse con quelle tradizioni e con i temi che stavano affrontando. Perché di che cosa si occupa Fantapie? Fantapie prende fondamentalmente sul serio la rivoluzione che è avvenuta nella matematica. Lui lo dice chiaramente non soltanto in questo libro che raccoglie lo scritto principale, i principi di una teoria unitaria del mondo fisico e biologico, e già capite dal titolo qual è l'operazione che vuole portare avanti, ma anche nelle conferenze che sono su temi molto anche vicini a quelli che possono essere interessi di un pubblico più vasto. Questi sono i temi. Allora dicevo la matematica. Che cos'è la matematica per Fantapie? Non è più la matematica a cui si pensava nel passato, una scienza che parte soprattutto dall'esperienza comune, dalla geometria, che è la più vicina alla nostra esperienza. Quindi i punti che corrispondono ai puntini, le linee che noi possiamo tracciare, che sono in immediato rapporto con l'evidenza e con l'intuizione. La matematica non è più questa, dal fine ottocento in avanti, dice Fantapie. La matematica è un'altra cosa. La matematica è pensiero, è logica, è rappresentazione di mondi che possono essere a infinite dimensioni. Noi siamo abituati alla geometria che lavora sulle tre dimensioni. No, la geometria, e questo già si era cominciato a capirlo prima che Einstein introducesse il concetto di spazio-tempo, della geometria si poteva costruire con n dimensioni, gli iperspazi, è quello che colpisce Fantapie. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la geometria prima è la matematica. Prima di essere un pensiero che ha a che fare con il dato sensibile, con l'esperienza, è qualcosa che ha a che fare con l'idea, con lo sguardo, con l'intelletto, non con lo sguardo sensibile, ma con lo sguardo della mente, con lo sguardo dell'intelletto. È a pieno titolo rappresentazione di mondi possibili, una infinità di mondi possibili, che hanno soltanto come esigenza quello della coerenza. Devono essere coerenzi, non devono essere contraddittori, ma si possono immaginare una infinità di mondi possibili, come sono quelli che immaginano la logica. Poi il mondo reale è quello che deve rispondere anche al controllo sperimentale, ma la matematica può inventare un'infinità di mondi. E li inventa prima ancora che Einstein, con la sua teoria della relatività ristretta, ci portasse già uno sconvolgimento completo nella nostra immagine del mondo. Ma noi sono passati oltre 100 anni. Gli studenti dei licei, anche i licei scientifici, continuano a studiare la fisica newtoniana, perché sostanzialmente è quella che ancora ci serve, no? Se uno fa l'ingegnere utilizza quei principi. Ma nel frattempo è cambiato completamente l'immagine del mondo. L'idea di un tempo che era quello della fisica newtoniana, un tempo che esiste indipendentemente dagli eventi che scorrono. Immaginate, come lo pensiamo noi il tempo? Lo pensiamo come uno schermo su cui accadono degli eventi e che noi mettiamo in ordine. A proposito di ordine e disordine, il primo ordine è quello che noi diamo agli eventi che accadono nel tempo. C'è un prima e c'è un poi. Noi pensiamo, continuiamo a pensare, no? Secondo questa idea della fisica newtoniana, di un tempo che è come uno schermo su cui scorrono gli eventi. E il tempo, lo schermo, c'è anche quando non ci sono gli eventi, anche quando niente accade. Non è così. Einstein ci ha dimostrato che questa concezione del tempo assoluto, come qualche cosa che esiste, indipendentemente dagli eventi che accadono, non ha nessun senso. Ci sono tempi che scorrono secondo velocità diverse. Questo oggi non è... Einstein lo immagina attraverso una mente geniale, perché noi non dobbiamo cessare di pensare che uno dei più grandi filosofi del Novecento è proprio Albert Einstein. Questo Einstein lo immagina. Noi oggi possiamo misurarlo. Noi possiamo misurare con orologi che si possono comprare su internet a qualche migliaio di euro e vedere che il tempo scorre diversamente se siamo sulla riva del mare e scorre diversamente se siamo a 4.000 metri. E riusciamo a misurarlo con orologi atomici che oggi ce lo dicono. Il tempo scorre diversamente se noi siamo fermi piuttosto che se siamo su un aereo che va a una velocità, soprattutto se è una velocità molto elevata. I paradossi dei gemelli, tutto quello che Einstein presentava anche con questa modalità provocatoria, oggi noi lo possiamo sperimentare. Quindi cambia completamente l'idea del tempo e l'idea dello spazio. Noi siamo abituati a pensare appunto lo spazio a tre dimensioni. Einstein ci suggerisce, ci mostra, ci dimostra che invece dobbiamo parlare di uno spazio-tempo a quattro dimensioni e si possono ipotizzare ulteriori universi con modalità diversa. Con questi temi Fantapie si confronta fino in fondo con la teoria quantistica, secondo cui noi non dobbiamo pensare un mondo come quello che noi vediamo, solido, questo microfono che tocchiamo, quello che noi vediamo che accade secondo delle regolarità causali per cui ad una causa corrisponde necessariamente e sempre un effetto. Secondo la tradizione meccanicistica che conosciamo, che è quella del pensiero soprattutto della rivoluzione scientifica e soprattutto di Newton. No, la fisica quantistica ci dice che noi siamo fatti soprattutto di vuoto, che all'interno di questo vuoto c'è una quantità enorme di particelle che si muovono a velocità altissime rispetto a quelle cui siamo abituati e che il mondo in cui noi viviamo è semplicemente un'approssimazione di questo mondo microscopico, questo mondo microscopico in cui addirittura per descriverlo servono un po' di equazioni e quasi tutte queste equazioni non hanno bisogno della variabile tempo. Si può descrivere il mondo, il mondo dell'infinitamente piccolo e il mondo dell'infinitamente grande, senza far riferimento alla variabile tempo. E questo fantapie lo coglie fino in fondo. Che cosa è l'idea della sintropia? È l'idea che come c'è un tempo che va in una direzione, che è quello che noi conosciamo, per cui ad una causa segue un effetto secondo la linea del tempo, causa, effetto, principio di causalità, entropia, per cui si passa da una situazione precedente meno più organizzata, ad una situazione successiva meno organizzata, in cui c'è anche dissipazione di calore. Ecco, come è possibile quella direzione del tempo? È possibile una direzione inversa del tempo, una reversibilità del tempo. E se è possibile una reversibilità del tempo, dice Fantapie, vuol dire che non c'è soltanto l'entropia in una direzione, ma c'è una possibile sintropia. Ora lì il problema è questo. Che caratteristiche ha? E lo diceva il professor Scarelli, non si può andare a dimostrare sperimentalmente qualche cosa che ha a che fare con un'attrazione che viene dal futuro, perché il principio è che c'è un principio di finalità che ci attrae dal futuro. L'esempio che faceva e che ricorre continuamente nei libri di Fantapie è quello. Immaginate un cannocchiale che si rompe in mille pezzi o che si usura e poi immaginate di vedere questo film girato, il film del cannocchiale che si degrada, girato al contrario e voi vedete che dai frammenti dispersi si costituisce un cannocchiale che è funzionale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito semplicemente la direzione del tempo. Questo, dice Fantapie, è pensabile. Lo si può pensare, logicamente è possibile. Anzi, diventa il modello per spiegare i fenomeni cosiddetti sintropici, che sono i fenomeni dei viventi. Che cos'è un visto in direzione opposta un cannocchiale che si sta disperdendo nei suoi frammenti visto in direzione opposta? È l'occhio del vivente in sviluppo che si forma, che si costituisce. Questa è la sua idea. Se noi parliamo di possibile reversibilità del tempo, possiamo avere da un lato il principio di causalità, dall'altro il principio di finalità. Da un lato la degradazione, la disorganizzazione, dall'altro l'organizzazione. La differenza è che mentre i fenomeni entropici possono essere provocati sperimentalmente, io posso sperimentarlo, i fenomeni sintropici non si possono sperimentare. E questo, in qualche modo, è la debolezza della teoria. Perché come la dimostra Fantapie? Dice, la posso dimostrare soltanto esemplificando i fenomeni sintropici come uno specchio di quelli entropici. Quelli entropici sono basati sulla causalità, quelli sintropici sulla finalità, quelli entropici vanno verso la degradazione e la dissipazione, quelli sintropici vanno verso l'organizzazione, l'aumento della complessità. Guardate, non si ferma qui, perché è talmente audace, dicevo, che coglie anche un'idea che oggi è al fondo della discussione della fisica. Perché noi dobbiamo pensare, lo diceva bene Aurelio Rizzacasa, temi come questi del determinismo, tutto è regolato meccanicisticamente da una catena di cause ed effetti? Tutto quello che accade, accade perché c'è una ragione necessaria che lo fa accadere? Era la visione degli stoici, la visione di Spinoza? Oppure quello che accade, accade in dirizione di un fine, di un disegno intelligente che è qualcosa che attrae verso quel disegno? Ecco, oppure tutto accade in maniera casuale? E qui che cos'è il caso? Bisognerebbe anche discuterlo, capirlo. È semplicemente l'incrocio di linee di causalità che si incontrano e che non possiamo conoscere. Oppure è l'indeterminazione quantistica, che le particelle si muovono come vogliono, in direzione probabilistica. E quello che accade, noi lo vediamo così, accadere in questo modo, semplicemente perché parliamo di un macromondo. Ma se noi fossimo nel micromondo, probabilmente il comportamento delle particelle sarebbe molto più imprevedibile, molto più casuale di quello che è. Allora, dicevo, il confronto radicale di Fantapie con questi temi. Fantapie arriva ad immaginare una concezione dell'universo blocco, che non è una fantasia, perché oggi, diceva appunto Aurelio, queste visioni del mondo così immaginarie, così azzardate, ci vengono dalla scienza. Non è più la filosofia che si occupa di questi temi soltanto la filosofia, ma la scienza stessa. Se voi guardate la fisica teorica, basta che leggete libri anche di divulgazione molto semplici, ma anche molto radicati nella concezione, nella competenza scientifica. I libri di Carlo Rovelli, l'anno scorso, L'ordine del tempo, o Le sette lezioni di fisica, ma tante altre teorie. Lui esprime una delle idee della gravità quantistica, la gravità quantistica a loop, i tentativi di coniugare la teoria della relatività di Einstein con la meccanica quantistica. Lì c'è un mondo sconfinato di idee. Una di queste idee è quella che non esista il tempo, ma che il tempo sia semplicemente un modo approssimato con cui noi viviamo la realtà, ma che a livello delle microparticelle, a livello del micromondo, c'è una compresenza di presente, di passato e di futuro. Cioè è come un universo che c'è tutti insieme, tutto in un blocco, non che si dispiega da un prima a un dopo, così come lo pensiamo noi nell'esperienza ordinaria che abbiamo del tempo. Fantapie arriva a sostenere questo, l'idea che ci sia una compresenza di tutti gli oggetti che sono in un universo blocco. Guardate anche qui, non sono idee nuove. Parmenide all'inizio del pensiero occidentale diceva proprio questo, che il tempo è semplicemente una illusione che riguarda noi, ma che in realtà c'è una dimensione che è quella dell'eternità. E guardate anche come ricorrono continuamente nella filosofia pensieri, idee. La bellezza della filosofia è che non invecchia mai, nel senso che se noi andiamo a leggere un libro di scienza, forse di zoologia di 300 anni fa, raramente può essere in relazione con le nostre conoscenze. Ma se noi leggiamo un testo di filosofia, sia Platone, sia Parmenide, oppure un testo di poesia o di letteratura, quelli continuano a parlarci, quelli ci parlano ancora, quelli non invecchiano, perché parlano a quelle che sono le nostre aspettative, le nostre visioni, le nostre domande, i nostri perché. Dicevo, Parmenide parla dell'essere che è qualche cosa che non diviene e che quello che noi vediamo come sviluppo nel tempo è semplicemente un'illusione. Ma oggi il più grande filosofo italiano, e non credo che ci sia dubbio su questo, Emanuele Severino, Emanuele Severino dice questo, dice che noi viviamo, tutti noi, gli esseri, viviamo in una condizione di eternità. E quindi noi ci crediamo, abitatori del tempo. Siamo come dei signori, dei re, che si credono dei mendicanti, dice Emanuele Severino. Siamo dei re, perché siamo eterni, però in realtà ci consideriamo nel tempo, ci consideriamo che diveniamo, ci consideriamo abitatori del tempo. Questo non è altro che Parmenide. Questa è l'idea di un universo blocco in cui esistono contemporaneamente passato, presente e futuro. Sapete che questo nasce dal problema, dalla messa in discussione, che con la teoria ristretta della relatività di Einstein, a proposito del presente. Che cosa vuol dire oggi presente? Adesso. Adesso per chi? Mentre io dico adesso e guardo qualcosa che accade lì, è passato qualche nanosecondo, quindi è già passato, ma se io dico adesso e mi riferisco a qualcosa che accade a migliaia di anni luce, che cos'è questo presente, è una fetta molto più larga e quindi il concetto di simultaneità viene meno e quindi teorie come quelle dell'universo blocco in cui tutto, il presente, il passato, il futuro, sono simultane, hanno diritto di cittadinanza nella discussione che sta facendo attualmente la fisica. E questo Fantapie lo ritiene non solo possibile, ma ritiene anche che possa spiegare fenomeni che altrimenti non riusciamo a spiegarci, in questo in maniera molto azzardata. C'è una delle conferenze in cui Fantapie si rivolge alla società di parapsicologia, di metapsicologia si chiamava allora, che intrattiene un dialogo molto stretto con Fantapie, perché l'idea qual è? È l'idea di spiegare certi fenomeni di comunicazione nel tempo, in avanti o indietro nel tempo, attraverso quest'idea della compresenza dei tempi. Quindi è una conferenza che potete leggere dalla raccolta degli scritti di Fantapie che fa proprio riferimento a questo. Vedete, anche qui, in sintonia con molti sviluppi anche in altri campi della ricerca scientifica, ma addirittura della ricerca psicologica, se voi pensate alle riflessioni di Carl Gustav Jung rispetto al tema della sincronicità, di eventi coincidenze significative che accadono tra stati elementali e condizioni di fatto. L'esempio che porta Jung è quello di una paziente che stava curando, che gli dice che stava parlando di uno scarabbeo e Jung è lì alla finestra e vede a un certo punto un animale che è uno scarabbeo dorato, un tipo di insetto che tra l'altro molto raramente tende a entrare all'interno degli ambienti. Ecco, lui queste le denomina sincronicità in cui c'è in qualche modo la relazione tra uno stato mentale di coscienza e uno stato fisico. Poi c'è tutta una corrispondenza di Jung con il fisico Wolfgang Pauli, ma Pauli non è che è un fisico di secondo ordine, credo anche premio Nobel, ma comunque uno che ha dato un grande contributo allo sviluppo della meccanica quantistica. Una discussione proprio su questi temi di quanto è il limite tra coscienza e quindi mente in senso generale e dimensione fisica. Noi abbiamo assistito nel corso dei secoli ad un continuo svuotamento del concetto di materia, perché questo è quello a cui abbiamo assistito. In passato che cosa si intendeva per materia? Si intendevano dei corpi solidi che attraverso una legge di cause ed effetto realizzassero poi gli eventi che accadono nel mondo. Questa è la struttura del meccanicismo, quella su cui si concentra lo stesso Newton, anche se poi Newton dovrà avere a che fare con la forza di gravità e questo parlare di forza rispetto a qualche cosa di puramente materiale gli creava qualche problema. Probabilmente avrebbe visto bene la relatività generale di Einstein che invece vede la trama dello spazio-tempo come un campo gravitazionale e quindi un qualche cosa di reale, qualche cosa che ha una sua tra virgolette materialità. Per dire ancora un'ultima cosa, Fantapie si considera all'interno della visione cristiana della vita in maniera molto autentica, molto genuina, tra l'altro sapendo che anche la dimensione cristiana della vita richiama soprattutto a degli obblighi che sono di carattere etico e quindi morale, degli impegni di rispetto, degli impegni di amore verso gli altri. Anzi, legge la natura come se il libro della natura dicesse le stesse cose che dice il libro del Vangelo. È una legge, un comandamento di amore e la finalità di cui parla Fantapie è questo, non è la finalità che ci porta verso il raggiungimento di un fine materiale. Sì, la finalità è anche quella, quando noi vogliamo realizzare qualcosa e raggiungere un fine, ma ci sono gerarchie di finalità e la finalità più alta è la finalità che ci porta anche a sacrificare il nostro interesse biologico per un interesse che è ideale, che è morale. E qui il richiamo a Kant è molto forte, Kant non è soltanto quello della critica della ragion pura o della critica della ragion pratica, Kant è anche quello della critica del giudizio, in cui ci invita a pensare sul concetto di fine, perché l'azione dell'uomo è un'azione finalizzata, il fine ci attrae dal futuro. In qualche modo noi siamo non soltanto spinti dal passato e non soltanto siamo impegnati nel presente, ma siamo anche aperti, attratti verso il futuro che ci attrae da lì. Ecco, un po' un punto che Fantapia si chiede, ma se c'è questo rapporto causale così forte per cui si determina il fenomeno dell'entropia dalla causa all'effetto, se c'è questo richiamo finalistico che dal fine attrae il presente. Non c'è il rischio che, visti l'uno lo specchio dell'altro, l'uomo sia preso in una logica già determinata, già decisa e quindi in qualche modo un'ottica deterministica in cui non c'è spazio per la libertà, per il libero arbitrio. Fantapiae questo problema se lo pone in maniera esplicita e si chiede dove finisce il libero arbitrio, dov'è in questa visione? Non c'è un rischio che è preso in mezzo tra un meccanismo causale e un meccanismo finale che sono l'uno lo specchio dell'altro, perché la possibilità di invertire il tempo consente di leggere l'andamento dei fenomeni in entrambe le direzioni. Dov'è la possibilità del libero arbitrio a cui pure Fantapiae, appunto riconoscendosi all'interno della visione cristiana della vita, tiene? La risposta che dà, certo si può sicuramente discutere, però la consapevolezza del suo problema c'è. L'uomo è in qualche modo al confine tra il macromondo, che è il mondo che abbiamo davanti, il mondo dell'esperienza quotidiana, su cui continua a valere la fisica newtoniana, gli ingegneri continuano a costruire ponti come se il tempo e lo spazio fossero quelli di Newton, ma al confine tra questo macromondo e un micromondo che è fatto invece di indeterminazione, di propensioni, di probabilità, di onde di probabilità che possono essere non soltanto piene e che quindi fanno vedere il mondo così come lo vediamo, ma onde di probabilità che possono anche essere molto rarefatte. È lì, in questo trovarsi in mezzo tra un micromondo e un macromondo che si può giustificare l'idea della libertà dell'uomo e della sua capacità di costruire ordini. Perché noi dobbiamo imparare anche a pensare questo, che non c'è un ordine dato una volta per tutte. Questo lo si pensava nel passato, non c'è un ordine dato una volta per tutte. Noi non soltanto costruiamo ordini continuamente. Addirittura Rovelli ci dice che cosa ci dice che noi veniamo da un passato in cui lo stato di entropia è più basso, è più organizzato. Bisogna vedere come noi pensiamo l'ordine. Noi prendiamo un mazzo di carte, mettiamo da una parte tutte quelle di rosse, tutte quelle nere, fiori, picche e così via. Poi le mischiamo. Dice prima erano ordinate, poi sono diventate disordinate, ma dipende da quello che noi abbiamo in mente. Se noi li pensiamo perché le vogliamo distinguere per colore è un conto. Se noi le vogliamo ordinare 1, 2, 3, 4, 5 e così via, quindi gli ordini possono essere molti diversi. Sicuramente l'ordine, io non so se è giusto dalla scienza ricavare conclusioni che riguardano la fede o la non fede, la dimostrazione o la non dimostrazione dell'esistenza di Dio. È sempre un discorso molto difficile, dipende dalle sensibilità di ognuno di noi. Fantapie pensa di poterlo fare, quest'idea che unifica i fenomeni fisici, chimici e i fenomeni biologici attraverso il concetto di entropia e disintropia giustifica, secondo lui, questa idea di un fine ultimo che sarebbe Dio. Guardate, qui la riflessione di Fantapie è molto legata anche a un grande teologo cristiano, anche se ha conosciuto i suoi problemi con la Chiesa, che è Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin che parla di questa idea di un punto omega verso cui il mondo evolvendo, e qui Teilhard de Chardin riprende sul serio la teoria dell'evoluzione, non criticandola come magari si fa in certi contesti richiamandola il creazionismo oppure il disegno intelligente, ma parlando di fisica, di chimica, di biologia, Teilhard de Chardin pensa che ci sia questo esito finale, questo punto omega. Io non lo so se dalla scienza si possano ricavare prove per l'esistenza o la non esistenza di Dio, non credo che si possa fare, non sia giusto e credo che la Chiesa cattolica, ditemi se sto parlando troppo, faccia bene a non impegnarsi su questo fronte, perché l'idea di un Dio che venga a atturare le falle della ragione umana che non riesce a risolvere certi problemi scientifici. L'idea di un Dio, avrebbe detto Bonhef, di un Dio tappabuchi, ma era un'idea che riprendeva da Heine, di un Dio che mette le toppe all'universo, le toppe continuamente con questa idea si sono dovute mettere, quando la Chiesa si opponeva alla visione copernicana dell'universo e via, decenni di discussioni, il problema dell'evoluzionismo e così via. Quindi impegnarsi con una particolare teoria scientifica credo che non sia mai opportuno, anche perché ci sono modalità diverse per fare un discorso che sia, certo, non rinunciando a dare una visione dell'universo, è legittimo che la teologia, che la filosofia, la metafisica diano visioni dell'universo, ma dimostrare è sempre molto complicato. Oggi se uno legge uno dei primi libri che hanno messo in relazione la nuova fisica con le visioni religiose, è quel bel libro di Frithiof Capra sul Tao della fisica, la via della fisica, in cui Frithiof Capra mette in evidenza come la fisica contemporanea, relativistica e quantistica sia in perfetta sintonia con la visione del misticismo orientale, del buddismo, del taoismo, l'idea che oggi un po' tutti i fisici accettano, che noi non dobbiamo parlare quando parliamo di fenomeni fisici di cose, di oggetti materiali, ma dobbiamo parlare soprattutto di processi, dobbiamo parlare di eventi, dobbiamo parlare di processi, questo anche Eraclito ce l'aveva insegnato quando diceva che il logos, il fuoco, come processo. Ecco oggi noi parliamo di eventi, parliamo di processi piuttosto che di cose fisiche, processi che raggiungono momentanee configurazioni dinamiche, che poi possono evolvere, che poi possano cambiare. È l'idea che è al fondo dell'I-King, quell'oracolo cinese che pretende in qualche modo di descrivere le situazioni cosmiche attraverso i trigrammi, che diventano 64 esagrammi, che rappresentano tutte le opportunità cosmiche dell'universo. Quindi dicevo, quali conclusioni trarre? Io credo che sia giusto riconoscere che la scienza è un processo in continua evoluzione. Le visioni del mondo cambiano, le visioni dell'ordine cambiano, fortunatamente cambiano e noi dobbiamo pensare che più che un mondo inizialmente perfetto, inizialmente ordinato, è un compito che ci attende, quello di mettere ordine continuamente nel caos, secondo modalità che noi riteniamo che siano le nostre modalità, modalità umane, ma modalità anche che si possono ritrovare nella natura, perché nella natura c'è anche questo, nella natura c'è disordine ma c'è anche ordine, ci sono finalità e quelli che hanno, anche nella filosofia, quelli che hanno sempre esaltato il disordine, il caos nel mondo, molto spesso l'hanno fatto per giustificare una loro volontà di disordinare, una loro volontà di non seguire quella modalità che invece punta alla relazione, punta appunto al rapporto armonioso con gli altri, ad una dimensione che poi la dimensione etica che unisce nel comportamento credenti, non credenti, poi non credenti è sempre una parola che a meno a me non piace utilizzare, perlomeno non piace utilizzare per la mia posizione, perché io credo che ognuno di noi fa affidamento, credere significa questo, affidamento su delle persone, su delle idee, su dei valori, su delle convinzioni, che si può pensare che esistano nel mondo oggettive e che tutti debbano riconoscerle, oppure si può pensare che fioriscano all'interno della coscienza di ognuno di noi, all'interno di quella che i mistici anche occidentali, non soltanto quelli orientali, chiamavano il fondo dell'anima. Da questo punto di vista il costruire ordini è sempre un impegno continuo che oggi diventa particolarmente urgente di fronte al disordine organizzato che la presenza dell'uomo rischia di mettere soprattutto nell'ambiente, nell'ambiente in cui appunto se noi non ragioniamo sulla base di principi che tendano a mantenere, a conservare, a sviluppare il cosmo, parola che appunto ricordavamo prima significa, dovrebbe significare ordine, è a rischio continuo di dissipazione e di sparizione. Guardate, queste idee organicistiche della fisica contemporanea che sono presenti in fantapie, costituiscono un paradigma particolarmente interessante, importante, oggi quando noi abbiamo bisogno di pensare il cosmo come qualche cosa che non ci sta di fronte e che dobbiamo dominare, ma il cosmo come qualche cosa di cui noi siamo parte e che con la nostra intelligenza dobbiamo darci da fare per mantenere, per sostenere, per migliorare. Questo è un paradigma che il pensiero ecologico, l'ecosofia oggi richiede e che può trovare anche in un matematico grande che si confronta con il pensiero filosofico come è fantapie, un riferimento culturale importante che va molto al di là anche dell'importanza che fantapie ha e dovremmo di più riconoscere per la città di Viterbo, perché è un pensatore che si confronta con problemi essenziali dell'uomo contemporaneo. Grazie. Grazie.